ragazzi ho acceso il video per filmare questo momento perché mi è successa una cosa veramente strana sono entrato nella magione guardate cosa incontrato non mi posso liberare sono dovuto salire qua sopra per miracolo perché altrimenti mi uccide guardate cosa c'è qua sotto cioè mi sta aspettando la sotto per uccidermi mai successa una cosa del genere ero brain è qua sotto che mi sta aspettando guardate che furbo guardate è fortissimo è forte l'ho colpito un sacco di volte non è morto allucinante poi furbo guardate dove mi sta aspettando guarda come faccio io a scendere da qui adesso aspetta posso fare un buco non ci ho pensato un buco qua uscire fuori sicuramente questo vede anche attraverso i blocchi non arrivo là in fondo cazzo non è normale che blocchi in nero ora è caduto in giù c'è la palla per colperlo se mi colpisce lui posso colperlo anche io sta prendendo le misure per saltare figlio di puttana che furbo non lo colpisco sì l'ho colpito buono colpito dai colpito dai e salsa di più non lo colpisco comunque gli faccio danno gli faccio danno ma o eppure ho una spada potente ma quei due colpi che gli ho dato sembra nemmeno gli rapi a Dante oh cazzo il salto che ha fatto quanto ha saltato 1 2 3 4 ha saltato 5 blocchi o 4 5 blocchi no se sale questo qua mi è uscito cosa mi rimane da fare è un'altra cosa mi rimane da fare è un'altra cosa mi rimane da fare Secondo me quello che mi vede uscendo fuori c'è pure l'ora. Oioioio, è aggressivo, è aggressivo, in più c'ho tutti gli altri mostri aspettandolo, ma quelli non mi preoccupano. Cosa sta facendo? Quello che mi preoccupo perché sto qui, eh roba, eccolo, eccolo, aspettandomi, che furbo, se ne sta assolto per... è troppo furbo. No, 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 no. Voglio fare una cosa... In tal caso lui ce la faccia a saltare più del dovuto. Non riesco a salire qua sopra, non mi colpisce una volta e basta. Ok. E qua... Non posso metterlo in un altro blocco. Colgo questo. Ma io ho paura che se scendo lui passa fuori, tanto mi acchiappa. perché è velocissimo. Io mi chiudo, lo sapete cosa faccio? Aspetto i vostri commenti e mi consigliate come posso fare per scappare da qui perché mi uccide questo. No.